Questa coalizione ha già dimostrato in piena campagna elettorale, nel primo e nel secondo turno, di essere molto coesa, di essere molto solidale al proprio interno. Una soddisfazione straordinaria è quella di portare in consiglio 20 consiglieri comunali, metà dei quali sono alla prima esperienza, con molte donne e quindi anche questo è un elemento di novità in questo panorama. Il neosindaco di Brindisi, Giuseppe Pino Marchiona, si prepara all'avvio della nuova legislatura, senza accelerate sulla prossima giunta, ma guardando con fiducia i numeri della sua maggioranza. 20 i consiglieri eletti, a sostegno di Marchionna, 21 compreso il voto del sindaco, 8 in più rispetto all'opposizione che si ferma a 12. In totale saranno 6 le donne elette invece. Ovviamente una situazione in evoluzione nel caso alcuni consiglieri possono accettare il ruolo di assessore. Il gruppo consigliare più numeroso è quello di Forza Italia, forte di 6 consiglieri, tra i quali Gianluca Quarta, il primo degli eletti in città. Seguito da Fratelli d'Italia con 5 rappresentanti. Nell'opposizione il PD è confermato primo partito con 4 consiglieri eletti. A sedere in consiglio comunale anche gli altri 3 candidati sindaco, Roberto Fusco, sconfitto al ballottaggio, e Pasquale Ruperti, che porta anche un consigliere per il Movimento Regione Salento, e infine il sindaco uscente Riccardo Rossi. Un consiglio comunale tra volti noti e new entry, con la 25enne Veronica Mastro Giacomo del Partito Repubblicato Italiano ad essere la più giovane eletta, ed il veterano Raffaele De Maria della Casa dei Moderati alla soglia degli 80 anni, il più anziano, entrambi eletti tra le file della maggioranza, con De Maria che aprirà come da regolamento i lavori del primo consiglio comunale.